Sì Presidente, sull'ordine dei lavori o meglio sulle comunicazioni che lei ci ha fatto, come lei sa l'ultimo ufficio di presidenza è stato praticamente andato deserto e quindi le chiedo scusa ma vorrei mettere a verbale due cose. La prima, io sono molto d'accordo, sto aspettando che finisca. Dottor Mirabelli mi ricordano gli uffici che siamo in diretta televisiva quindi mi faccia sapere se lei preferisce continuare in questo momento. No, io continuo tranquillamente. Per chiederle Presidente non solo di accettare il sostegno della Commissione antimafia al lavoro fatto sull'università di cui ho accennato prima, ma sarebbe utile, conoscendone il valore, avendo la Commissione della scorsa legislatura avuto un ruolo importante nella costruzione di quel progetto, sarebbe utile, io credo, che questa Commissione valorizzasse un lavoro comunque fatto dall'istituzione e magari si organizzasse anche una presentazione, un momento pubblico che mette in risalto quel lavoro. L'altra questione, Presidente, io le chiederei di rinviare la decisione sull'audizione del Dottor Luca Palamara, perché guardi, intanto mi piacerebbe discutere il merito, lo faremo semmai in ufficio di Presidenza, sulle ragioni per cui la Commissione antimafia dovrebbe essere interessata per la propria attività e in quale finale di inchiesta a audire Luca Palamara. In secondo luogo, io penso che non sia opportuno che la Commissione antimafia diventi una tribuna, un'ulteriore tribuna, vedo che ne ha molte televisive, in cui il Dottor Luca Palamara intervenga in un momento in cui c'è pendente un suo ricorso, mi pare, sul rispetto ai provvedimenti disciplinari che sono stati fatti e su cui si deve esprimere la magistratura. Per cui, almeno per questa ragione, chiederei di sospendere la decisione su questo passaggio. Sì, grazie Presidente. Mi scusi se riprendo la parola per chiederle, intanto, visto la decisione che ha preso, cioè di ridiscutere la vicenda, o discutere la vicenda in ufficio di Presidenza, di smentire immediatamente l'agenzia che è già uscita e che dice che il 23 noi audiremo Luca Palamara. Non commento, io troverei strano se mentre stiamo ancora discutendo questa cosa qualcuno avesse già deciso, ho concordato con Luca Palamara di fare questa audizione. La seconda cosa che voglio dire è, le cose che ci ha detto Presidente, io le ho ascoltate, in quelle cose trovo molti spunti per una riflessione analoga a quella che ho fatto all'inizio, nel senso che io penso che diverse delle cose che lei ha citato non sono materia della Commissione Antimafia, ma del CSM, Commissione Giustizia, di chi ha la funzione di controllare il lavoro della magistratura. Detto questo, lei ha ragione, io in ufficio di Presidenza ho detto che noi abbiamo il dovere morale di far ripartire il lavoro della Commissione, ma intendevo dire che abbiamo il dovere morale di far ripartire il lavoro della Commissione perché di fronte a una situazione come quella che c'è nel Paese, per esempio, abbiamo bisogno di mettere la Commissione a lavorare, a misurarsi sul recovery plan per capire come è possibile non solo mettere in sicurezza quei soldi, ma anche mettere in campo progetti che rafforzino la lotta alla mafia. Io penso che questo sia il compito della Commissione. Non... vabbè, mi fermo qua.